cosa fare al risveglio soprattutto delle baby allora io faccio così le analizzo visivamente quindi guardo che abbiano gli occhietti vispi che non abbiano problemi agli occhi che non abbiano gli occhi troppo incavati che non abbiano micosi e che non siano delle scatole vuote perché questo vuol dire che sono fatto un letargo in maniera ottimale in un posto umido e sono ben idratate dopodiché adesso non mangiano ancora gli do da mangiare per un paio di volte lattuga cosa che non faccio mai ben bagnata perché ricca di acqua 95 per cento acqua e questo serve per idratare un paio di volte poi basta la lattuga e se proprio verifichiamo che sono disidratate ci accorgiamo dagli occhietti oppure che sono accorgiamo perché sono troppo leggere allora è il caso di fare un piccolo bagnetto tipidino per per reidratarle tutto qui per il resto e si lascia lì e si si fa fare loro il risveglio in maniera naturale quindi non mangiano in genere non mangiano per una settimana dieci giorni risveglio a volte per due giorni insomma non per tutto è uguale ma non mangiano di sicuro subitissimo queste sono già belle arzille